Questo servizio è offerto dai seguenti partner Saitta, pubblicità e comunicazione CRS, ricambi auto Centro Sicilia ICAM SRL Tramec Trasporti Pneus 2000 Manara, rappresentanze e Autosystem Sabato 24 settembre con la cinquina regolata al Branciforti ha avuto inizio una cavalcata oggi distante e un solo passo dal trionfo Ai Biancazzurri serve conquistare almeno un pareggio per consacrarsi ufficialmente re del Girone G di prima categoria Al Valentino Mazzolo davanti al proprio pubblico il mister Bianco vuole festeggiare ma dinanzi a sé avrà le resistenze dell'Armerina inseguitrice al pari del Motta Buongiorno a tutti da Francesco Casici Diamo lettura delle formazioni partendo dalla compagine ospite allenata da Mirko Fausciana che schiera Castagna tra i pali numero 2 Oliveri Trelli Uzzo 4 Minolfi 5 Catalano 6 Cinici 7 Faraci 8 Fausciana 9 Libro 10 Alessandro Capitano della compagine Bianco, Rossa e 11 Alberti con in panchina Castronovo Anzaldi Ricco Bene Rascuna Deoma e Rizzo Bianco Azzurro il mister Bianco con Giuseppe Marofino tra i pali numero 2 Salvatore Moring 3 Davide Oliveri 4 Santo Orofino 5 Giuseppe Tamburella 6 Dario Caliò 7 Domenico Baudo numero 8 il capitano Gianfranco Russo numero 9 Lorenzo Bonaccorsi che è il capocannoniere del campionato con ben 26 gol numero 10 Luca Pacini numero 11 Lele Garozzo in panchina a disposizione di mister Alessandro Di Maria numero 12 Spina 13 Lo Giudice 14 Racca 15 Maesano 16 Trapani 17 Michalizzi e 18 Arena c'è sicuramente un clima davvero molto molto bello quello che si sta respirando a mister Bianco un mister Bianco che vuole chiaramente consacrarsi il prossimo anno nel campionato di promozione migliore attacco e migliore difesa dello stesso con 19 vittorie la squadra che ha raggiunto appunto il maggior numero di successi che tra l'altro è già ufficialmente tra le prime sei di Coppa Sicilia che vuole chiaramente anche il pass nella prossima settimana e anche per magari fare il double in questa stagione dirigerà la partita il signor Neto della sezione di Messina tra pochissimi minuti sarà mister Bianco Armerina tutto pronto per il match con il mister Bianco che avrà il primo possesso del pallone attaccando da destra verso sinistra rispetto alla posizione occupata in tribuna centrale al comunale di mister Bianco davvero sicuramente atmosfera frizzante atmosfera divertente quella che si respira tra gli spalti del comunale di mister Bianco contro un'Armerina che ha tutte le vellità e tutte le intenzioni chiaramente di guastare la festa ma a poc'anzi c'è stato anche un bel commiato un bel saluto da parte del direttore sportivo della formazione ennese questo fa capire come appunto ci sia un clima che si respira positivo sotto tutti i punti di vista primo pallone giocato dal mister Bianco che già subito lo propone all'attacco mancherà Pietro Palazzolo tra gli undici ancora qualche problema per il numero sette che sappiamo sia coinvolto chiaramente anche nel roster della nazionale che potrà partecipare nei prossimi campionati mondiali a Dubai di beach soccer sull'out di destra dove Gianfranco Russo mette questo pallone in mezzo interessante per il rimorchio di Baudo Baudo potrebbe anche andare a calciare col destro la prova la conclusione la parata di Castagna sarà calcio d'angolo per il mister Bianco che quindi minaccia per la prima volta la porta dell'Armerina gioca l'Armerina attacco importante la conclusione con Marraffino che va a salvarsi probabilmente vi è stata la deviazione che tra l'altro è decisiva per negare la gioia del gol all'Armerina che quindi si rende pericoloso al diciassettesimo minuto Russo per Pacini Pacini di prima intenzione bruttissimo fallo su di lui ma si gioca con Bonaccorsi Bonaccorsi ancora il numero undici era Lele Garozzo no era pardon proprio Lorenzo Bonaccorsi pallone giocato dal mister Bianco che attacca sulla catena di destra con Lorenzo Bonaccorsi non arriva Lele Garozzo questo poteva essere un suggerimento interessante poi Baudo non riesce a mantenere il pallone in gioco davvero grande opportunità per il mister Bianco al ventisesimo minuto questo pallone messo in mezzo dove non è arrivato per un soffio Lele Garozzo all'appuntamento col gol pallone messo in mezzo dove Pacini suggeriva per Garozzo che non è arrivato ancora una volta a questione di centimetri attacca il mister Bianco con Bonaccorsi per Garozzo la posizione è regolare ci sentiamo di poter dire possa essere regolare proprio quando entriamo nel quarantasesimo minuto cioè il primo del recupero il duplice fischio del direttore di gara Neto dopo appena 60 secondi quindi le due squadre vanno negli spogliatoi 0 a 0 reti bianche al Valentino Mazzola è un risultato che permetterebbe però al mister Bianco di andare a 59 punti e di non essere più acciuffata dalle dirette inseguitrici Armerina su tutte e Motta siamo nel corso del terzo minuto quindi quarantottesimo di gioco calcio d'angolo dalla sinistra con questo ballone che può essere giocato da Lele Garozzo che impegna Castagna al tuffo alla sua sinistra corner quindi quarantottesimo minuto ancora Moring per Santoro Fino che si affida a questo lancio centrale verso Lele Garozzo ancora la conclusione del numero 11 e la parata con il piede di Castagna al cinquantaduesimo minuto ancora il mister Bianco serra le fila vuole il vantaggio Lele Garozzo poi Luca Pacini calcia ma non inquadra la porta due conclusioni di fatti a rete per la formazione bianco-blu che viene giocato per Bonaccorsi Bonaccorsi impegna Castagna che sta dicendo no in questo secondo tempo già la seconda parata importante per il portiere Ennese calcio d'angolo già battuto Castagna a vuoto Garozzo Garozzo calcia due volte manca però la palla vincente poi Orofino ci prova conclusione che va lontana dalla porta è un mister Bianco che generoso al posto di Luca Pacini mentre ottimo corridoio per Lorenzo Bonaccorsi anzi Orazio Arena il suggerimento del numero 18 vi è però il calcio d'angolo mister Bianco tutto in avanti ad eccezione di tre giocatori che proteggono la porta di Maraffino calcio d'angolo dove Tamburella non arriva Marco Mesano rigioca per Orofino il controllo non è ottimale Orofino calcia Bonaccorsi c'è il gol del mister Bianco ma vi è anche il braccio alzato dal direttore di gara Neto Lorenzo Bonaccorsi di testa poi Maesano calcia il numero attenzione poi l'infortunio del portiere che in due tempi riesce ad agguantare la sfera era il primo pallone giocato verso Castronovo che si è salvato poi ha subito la carica gioca il pallone Orazio Arena vuole Lorenzo Bonaccorsi spalla la porta il numero 9 ancora Bonaccorsi la giocata individuale la conclusione di Bonaccorsi che va a similare il palo ed è anche l'ultimo brivido di questo match perché vi è il triplice fischio di chiusura di Neto mister bianco che quindi vince il giro reggi di prima categoria laureandosi campione di questo torneo con questo pareggio per 0 a 0 al Valentino Mazzola fa seguito la festa dei bianco-azzurri allenati da Alessandro Di Maria 59 punti in campionato 19 vittorie 2 pareggi 3 sconfitte l'Armerina comunque ha fatto la sua partita sale a 50 punti cercando di raggiungere un prezioso secondo posto in questi playoff ma è un mister bianco il mister bianco dei numeri che ha perduto tre partite ha perduto a maletto ha perso in casa poi contro Enna ed FC Motta ma poi dopo quella sconfitta inizio anno inizio 2017 non ha avuto più passi falsi non ha avuto alcuna battuta del resto soprattutto è stato un rullo compressore merita davvero a ogni ragazzo ogni calciatore e soprattutto merito ad una società che davvero non ha sbagliato nulla dalla presidenza dalla proprietà Saitta alla dirigenza spampinato Franceschini Gaudioso passando dal contributo certosino e di ogni dirigente della formazione bianco-azzurra che quindi il prossimo anno stagione 2017 2018 approderà e giocherà meritatamente nella serie B dei campionati regionali siciliani ovvero la promozione da Francesco Casicci è quasi tutto perché andremo alle interviste ma davvero un piacere avere commentato questa calcata trionfante dei bianco-azzurri di Di Maria che vincolo quindi il titolo di prima categoria commentiamo commentiamo proprio nel manto erboso del Valentino Mazzola questa esplosione di gioia vediamo se riusciamo a intercettare il pensiero dei giocatori bianco-azzurri partendo da Santo Rofino anzi partiamo da Santo Rofino e Gianfranco Russo ovvero la mediana e Santo un successo importante chiaramente che va a rendere ancora merito chiaramente alla carriera di ciascuno dei calciatori evidentemente qualcuno è abituato a vincere proprio non si può fare altrimenti nessuno si si hai detto bene però sai quando devi vincere sei obbligato a farlo è sempre un po' più difficile molti potranno pensare che è stata un'annata facile perché eravamo la squadra nettamente più forte è stato resta in mutande non lo possiamo inquadrare però sicuramente però la soddisfazione adesso è doppia perché abbiamo dimostrato che dovevamo vincere noi Gianfranco Russo il capitano da mister bianchese è ancora più speciale eh sì oggi è una giornata speciale finalmente dopo 13 anni mister bianco ritorna a vincere c'è un coro molto bello sì li ringrazio perché sono fantastici i miei compagni di squadra vogliono bene e io spero di ricambiarli come so fare è bello è bello vincere soprattutto se sei di mister bianco se hai già scritto delle pagine importanti sì diciamo che il peso della vittoria per me era ancora maggiore dato che sono del paese quindi ci tenevo la gente magari ti chiede quindi bisognerà sempre delle risposte sono felici oggi di aver raggiunto l'obiettivo grazie capitano andiamo a sentire il patron del mister bianco vediamo subito di intercettarlo chiaramente eh patronza itta patronza itta vieni qui perché è importante è il primo successo della proprietà che a mister bianco si è subito insediata con il contributo importante di dirigenti solidi che capiscono di calcio e voi con piccole mosse avete vinto e avete convinto abbiamo vinto era tutto programmato all'inizio stagione volevamo la vittoria volevamo la promozione ci siamo riusciti e ora sotto la coppa sotto con la coppa manteniamo la vetta manteniamo la vetta la 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 i presidenti la 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 i presidenti la 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 i presidenti i presidenti e pensiamo Sergio Franceschini Sergio Franceschini un altro componente importantissimo di questa dirigenza Sergio non è ormai siamo abituati praticamente quattro anni fa di questi tempi vi era un'altra vittoria ieri e oggi un'altra vittoria lo scorso anno c'è stata una vittoria insomma c'è gente che ribadiamo a fine anno è abituata allo champagne si è abituata allo champagne forse perché non è solo fortuna nel calcio ci vuole programmazione ci vuole un po' di competenza ci vuole saper fare saper unire un gruppo di giocatori uomini soprattutto che riescono ad affrontare i momenti anche non troppo facili e belli e ce ne sono stati anche quest'anno la prima categoria non è così semplice come si pensa avevamo degli avversari forti quanto forti quanto noi ma siamo riusciti a spuntarla anche quest'anno vuol dire che siamo capaci di fare pallone a modo nostro dal coordinamento mi informano che c'è Lele Garozzo il coordinamento non c'è in realtà l'abbiamo subito acchiappato Lele si è arrivato a dicembre si è arrivato proprio alla vigilia di una partita tosta quale l'Enna avete doppiato questo momento con l'Enna avete vinto fuori casa e lì c'è stata quasi la consagrazione ufficiale si sono arrivato a dicembre però è come se ci sono sempre stato dall'inizio della stagione dovevo già preventivato di venire qua non c'è stato nessun problema inserimento immediato come dici tu il girone poteva essere si poteva poteva nascondere le sue insidie poi alla fine l'abbiamo spuntata perché comunque non siamo una squadra che merita non tanto solo ed esclusivamente per la questione tecnica a livello dirigenziale a livello di giocatori a livello di tutto non siamo una squadra che merita la prima categoria Mister Di Maria Mister Di Maria importante vediamo anche la maglietta una stagione in testa al girone benvenuta promozione fa anche rima rima baciata è l'ennesimo successo chiaramente in panchina per Di Maria ma questo è un successo corale davvero perché è davvero col bene placido di tutti sì veramente difficile abbiamo rispettato il pronostico e nel calcio non è mai facile rispettare il pronostico tutti ci davano per favoriti noi ci siamo giocati a partita e partita e abbiamo compiuto per quanto mi riguarda una delle più belle vittorie mie perché si è lavorato tanto sulla motivazione del gruppo e quindi ci siamo divertiti Mister oggi non è stato un divertimento spettacolare come mai? ma diciamo che la tensione il braccino corto la paura di sbagliare noi giocavamo su due risultati avevamo di fronte una squadra che aveva necessità di vincere poi è chiaro che un po' la fatica il caldo ci ha portato un pochettino a non rischiare subire il gol a dieci minuti alla fine quattro ore alla fine significa rovinare questa bella festa che non si poteva mai mai rovinare assolutamente sentiamo il pensiero anche chiaramente di chi ha il Mister Bianco nel cuore nelle scelte chiaramente anche a livello politico Assessore è un successo di tutta la città che ha supportato anche il Mister Bianco forse l'unico momento difficile davvero è stata proprio la sottoscrizione al campionato di prima categoria c'è stato un bagno davvero quasi un pianto poi però la squadra si è messa davvero nei panni si è calata bene e non era cosa sempre assolutamente questa è una vittoria che volevamo un risultato che oggi corona un sogno e corona un'organizzazione perché noi abbiamo sposato il progetto Mister Bianco Calcio proprio perché abbiamo visto dietro una grande dirigenza un grande gruppo delle bravissime persone e Mister Bianco li stava aspettando stava aspettando con gioia questa promozione che per noi rappresenta e con trampolino di rancio è importante per la prossima stagione Assessore Lupo non voglio mettere in difficoltà questo campo si può e si deve migliorare assolutamente sì e tra i programmi della nostra campagna per il prossimo anno insomma ci avviciniamo alle elezioni non sono progetti pre-elettorali ne abbiamo già parlato con la società insomma stiamo facendo un buon lavoro e abbiamo un grande progetto davanti grazie 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 gentilissimo Sindaco se n'è andato va bene direttore Gaudioso andiamo a intercettare siamo in piena diretta quindi con Angelo Pandolfo che ci segue direttore generale Marzio Gaudioso è il successo di un progetto che è partito ricordiamo ad agosto difficoltà Torrucciola Piana allenamenti primi via vai gli umori non erano dei migliori quando non bisogna calarsi in un campionato che è appetibile come insomma l'eccellenza o la promozione ciò nonostante mi sembra che questa squadra abbia fatto un esercizio psicologico ancora più importante che calcisti sì sì hai detto Benetune sintetizzato molto bene c'è stata una progettazione che era finalizzata a un certo tipo di campionato contando su un passaggio che poteva essere un ripescaggio non c'è stato non nascondiamo che è avvenuto conseguentemente un momento di difficoltà ma innanzitutto la proprietà poi la dirigenza allargata staff tecnico e squadra si è trovata ci siamo trovati bene anzi ci eravamo scelti in fase come dire di tesseramenti in fase di precampionato abbiamo deciso di andare avanti naturalmente determinante in questa scelta è stata la volontà da parte dei giocatori di ragazzi di categorie sicuramente superiori a scegliere questa società a scegliere questa proprietà a scegliere questa dirigenza a scegliersi compagni per compagni e alla fine la volontà preminata direttore poche parole per la conclusione io direi che ancora c'è un altro obiettivo da raggiungere 59 punti ancora due partite ma soprattutto tra le prime sei ufficialmente di Coppa Sicilia si vuole il double? sì sì certamente sì non nascondiamo che partivamo da favoriti e questo è stato un aspetto di complessità nello sviluppo della stagione ma ovviamente l'obiettivo era a quel punto duplice trovarci in prima categoria per noi significava puntare al campionato e puntare alla Coppa staff tecnico eccezionale squadra eccezionale hanno raggiunto il primo obiettivo ovviamente siamo in promozione ma naturalmente dobbiamo ai sacrifici della proprietà dobbiamo ai sacrifici di questi ragazzi da agosto darci anche questa double soddisfazione chiamiamola così grazie grazie